Come si fa a fare un video con un gatto? Non si fa. Temprisci. Bentrovati sul mio canale. Ma qual è il tuo problema? Mi dovina chi c'è? Jessie. Scendi. Scendi, Jessie. Ma perché ogni volta che faccio un trucco? Hai culino? No, non gli puoi chiudere una porta? Io sono Federica. E' quello che state. Zitto. No, sta qui. Perché vuole? A cosa sta... Fermiamola. Ora stanno andando a lei. Jessie! No, dai, no! Jessie! Jessie, ti prego! Ah, lo sai che faccio? Io prendo il cuscino. Ah, sì? Sei sicuro? Bene. Sai che cosa ti aspetta adesso? Puoi scendere, per favore? Ando qui. Ti è un grande piacere, mi faresti. Basta. Basta! 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 Avanti! Basta! Basta! Ecco, era proprio il momento d'atto di giocare. Io sono Federica. No, ma proprio non ti piace quando dico io sono Federica? E' stato, insomma, il nostro... Ssssshh! Dai! 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 Fatti passare queste dolbe musichiche. Che? Tipo una specie di bambino. Ma... Sssssh! Scendi. Scendi! Au! Ma ti prende spesso questa cosa? Sssssh! Sssssh! Stiamo calmi, ah? Calmi, ah? Questa venda. Ah, signore, pietà. Ecco. Ma scendi! Scendi, Jesse! Sssssh! Sssssh! Ciao a tutti! Ciao! Ma che cosa c'hai? Che c'è? Che c'è? Eh, dimmi che c'è. Vieni qui. Vieni qui. Dai, vieni qui. Vieni qui. Vieni, sono un ballo, lui. No, non viene. Il tuo interlocutore si è sempre utilizzato. Oh, e che caspio, basta. Amore. E chi c'è qua? E chi c'è qua? Perché non si fa un po' di massa? Ti appresiva? Ti dirai unghiette. Non le unghiette. Non le unghiette. Non le unghiette. Non le unghiette. Ok, è già si va. Tutto è che si fa. Terminiamo. Vogliamo terminare questo concetto, Jesse? Putta qualche accendino per terra. Putta qualche accendino. Eccolo. Amore, bravo. Venti? Hai capito proprio la posizione perfetta dove ti dovi mettere? Al centro dell'attenzione. Secondo me vuoi l'imbraccio. È vero? Lì vieni in braccio. E già abbiamo un gesetto in braccio. Il problema è che mi aggola ogni tanto. Sale, sale, è meglio che sale. Non lo toccava che forse ti ho addormato. Vuole le carezze? Ancora, amore. Come vai? Anzi, tutto. Ecco, voleva stare in grado. Non ci spassa il microfono. Vuoi sembrare? Amore, guarda. Si vuole mettere il braccio a te. Oh mio Dio. Sono di... Vesteggiamo questo traguardo. Sono diventata oggi. Sono diventata il maschio alfa di questa casa. Certo. Dai, scendi. Dai, scendi. 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 Scendi, scendi, scendi. Scendi. Tu? Cassino. Stai facendo un portello. Vieni. Scendi. 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 Adesso Iniziamo a far parte della Fairy Crew. Se vuoi continuare a rilassarti, click su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno. penso possano piacerti buonanotte